Quando la cecità non impedisce di affrontare la vita. È stata presentata questa mattina a Palazzo Mercanti la decima edizione della camminata ludico-motoria amatoriale Mettiamoci in gioco, in programma sabato pomeriggio al Parco della Galleana. Obiettivo dell'iniziativa è quello di sviluppare solidarietà verso i problemi di disabilità visiva e di chi ne soffre, informando al tempo stesso che... Ci sono anche i cecchi piacentini che ci interessano a diversi sport. Abbiamo ragazzi che giocano a Torbal, abbiamo ragazzi che giocano a tennis per non vedenti, abbiamo anche qualcuno che fa ciclismo a livello amatoriale col tandem, quindi è un'attività che noi, soprattutto per le persone giovani, anche con problemi di vista, proponiamo e cerchiamo di promuovere al massimo delle nostre possibilità. In occasione della camminata di 5 e 10 chilometri, che partirà alle ore 16, all'interno del polmone verde della nostra città sarà presente anche la divisione oculistica dell'ospedale di Piacenza, disponibile ad effettuare visite gratuite nei confronti dei cittadini per fare in modo che... chiunque possa farsi visitare velocemente possa avere un parere sulla propria vista, eventualmente poi approfondendo gli eventuali problemi che venissero a galla. Sport e prevenzione, per la nostra salute non esiste connubio migliore.